bella a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video di jumbo aspettate che mi levo le cuffie due secondi perché ho appena fitto di registrare un video aspettate fatto ragazzi veramente sono le due di notte sono stanco morto vi faccio uscire questo video poi magari vedrete un video di gameplay domani dove giochiamo ci sputtaniamo insieme no comunque ragazzi allora io questo video volevo farlo perché volevo ringraziare a tutti naturalmente ringrazio anche da avermi comprato il microfono da avermelo spedito naturalmente le cuffie sempre ragazzi sono cuffie nuove che avete visto nel box opening sul mio canale ho comprato il microfono per fare dei video migliori dove si sente l'audio migliore comunque volevo ringraziare a tutti ragazzi perché nel mio canale siamo quasi arrivati come si dice quasi ai 100 iscritti che siamo comunque una quarantina dunque non è che siamo come si dice pochi alla fine siamo una quarantina di iscritti dunque non siamo pochi allora come è nato il fatto di chiamarmi jumbo perché il mio nome è christian però jumbo ragazzi è nato una questione di anche di che mi sono inventato io però comunque c'era come si dice questa canzone che continuava a ripetere una cosa se non mi ricordo adesso come si chiama sta canzone si chiamava jumbo o jumbo se non mi ricordo una cosa del genere poi naturalmente l'ho modificato ho cambiato prima mi chiamavo jumbo marsh poi magari era troppo difficile ho cambiato ho fatto il jumbo perché per molti era difficile trovare il jumbo il jumbo marsh era difficile comunque perché ho creato sto canale allora io sto canale ragazzi l'ho creato per motivo come dire di divertimento mi piace giocare videogiochi mi piace fare i video mi piace fare tante cose riguardando i video giochi così allora io ho deciso di aprire questo canale naturalmente in questo canale l'ho aperto ripeto non perché voglio diventare famoso perché ho ripeto ci può stare a me poi affinché anche se alla gente piace i miei video ripeto io ripeto sempre lo faccio perché così la gente magari piacciono i miei video perché io inizio prima di aprire un canale youtube io avevo aperto un canale come si dice instagram magari ve lo lascio qui o lì o magari ve lo lascio la foto in alto in fondo video adesso vediamo dove la volete e mi sono anche pappato dove ve la lascerò così ve la guardate magari ci fate un salto dove lì facevo delle battute magari facevo delle cose divertenti dicevo delle stronzate come il fatto di non fumare come ho fatto sulla mia pagina tiktok vado per far ridere dopo ho detto perché non aprire un canale anche youtube allora io li ho pensato sì non sarebbe male aprire un canale youtube però io in questi giorni ripeto in questi giorni mi dispiace che non ho pubblicato per un motivo infatti del lavoro ragazzi vado alle totale che adesso sto registrando questo video che sono le 2 di notte si sono le 2.02 di notte ragazzi sono stanchissimo però per portare un contenuto sto registrando questo video domani monterò il video del gioco così ve la faccio comunque questo è tutto grazie a voi siamo arrivati ai 40 iscritti io naturalmente appunto ad alti livelli per capire se il mio canale piace o non piace alla fine io vorrei arrivare a meno dei 100 iscritti quest'estate poi magari anche se non ci arriviamo anche al prossimo anno non mi dispiace e come posso dire questo è tutto grazie a voi naturalmente io vedo quella gente che piace come porti video di clash royale vedo che la gente li piace dunque alla fine sto continuando a portare poi magari se volete che facciamo una reazione al video della mia pagina instagram che si chiama crofaterni dal timo basso dita dal timo basso fuoco dove gli sparo delle gran cazzate o sparo dei video faccio delle battute tutta roba che spero che a voi vi piaccia e perché poi alla fine io quando ho iniziato non dicevo ragazzi benvenuti saluti da jumbo o ragazzi non lo dicevo ste cose dopo ho deciso di inventare questo nome perché a parte che ci sta già un altro jumbo però lui naturalmente è come dire non è italiano io sono il jumbo italiano naturalmente come avete visto alcuni video la stronzata che mi hanno fatto i capelli o la stronzata magari della challenge o magari qualche video di carl beauty io ragazzi lo faccio per stampare il sorriso come ripeto faccio i miei video io questi giorni ripeto non ho pubblicato per un motivo che ragazzi lavoro perché mio lavoro non è youtube cioè non è che sto tutti i giorni a fare video dopo video qua lavoro in un ristorante vorrei fare anche una cosa mia riguardo sempre al ristorante facendoci anche qualche video sulle mie preparazioni che mi piace cucinare altrimenti youtube lo faccio per passione poi io ragazzi quando mi divento un obbligo farlo e ragazzi non lo faccio cioè nel senso ripeto io facevo uscire ogni giorno un video nuovo quando avevo iniziato il canale tempo fa avevo iniziato il canale io ad ottobre se non sbaglio dovrei fare un anno di canale io facevo uscire un video al giorno per me far uscire un video al giorno diventa difficissimo cioè lavora al ristorante tutto il giorno vengo a casa che mi riposo due ore al giorno fare pure il video montato pubblicarlo sul canale mi diventa un cazzo in culo il fatto non è quello ragazzi se mi piace una cosa la faccio ok però se io lì mi sentivo di essere obbligato a farlo a me mi voglio fare una cosa con passione cuore e quando mi piace perché se io devo pubblicare perché tanto è per arrivare a 100.000 iscritti devo pubblicare 100.000 video e tutti questi video fanno cagare fanno schifo non ci hanno un buon volume il gioco non si capisce un cazzo la visuale si vede bene non si sente la mia voce o così non ha praticamente senso un'emerita minchia caricare quel video poi ho avuto dei problemi naturalmente ho preso il microfono come vedete ho preso le cuffie sto registrando adesso con il cellulare perché la cam è scarica ho preso un nuovo treppiedi più stabile naturalmente per migliorare un computer che mi sta arrivando c'è l'Xbox One X ragazzi sto migliorando tutto il modo per migliorare la grafica i giochi per migliorare tutte le statistiche per fare come dire un canale far diventare il canale e il jumbo un canale abbastanza decente che si capisce qualcosa come io come avete visto quando ho fatto vedere la mia postazione il mio computer dove faccio le bit è vecchissimo cioè ragazzi ciò avevo già l'applicazione installata sul computer però è vecchio io vorrei fare le mie bit fatte in un computer sistemato poi lasciamo stare tutti gli altri video che ho fatto e li ho fatto ripeto per divertimento per stappare il sorriso così io vi ringrazio di cuore perché siamo i 40 iscritti perché 40 iscritti ragazzi per un ragazzo di 20 anni che ha aperto un canale da zero che prima aveva aperto un canale da instagram da niente facendo che io ragazzi non è che sono andata in una famiglia ricca io tutto quello che ho preso l'ho pagato con i miei soldi cioè lavorando con fatica sudore e io vi ringrazio perché comunque ragazzi 40 iscritti è tanto poi ragazzi se raggiungiamo anche 100.000 iscritti raggiungiamo i 100 iscritti raggiungiamo i 90 iscritti ragazzi io sono felicissimo di cuore ma non perché io ci guadagno qualcosa non mi importano i soldi mi importa perché vuol dire che vi piace quello che porto e vi piace il contenuto delle stronzate che sparo poi se volete anche magari un giorno faremo anche il video della reazione della confaterna di fuoco se magari vi piacerà avere magari ci guarderemo qualche video insieme e io farò la reaction a quei video del cazzo che facevo magari lasciate un like a questo video iscrivetevi come sempre ragazzi lasciate un commento magari se volete un canale con mia sorella magari dove vi farò qualche scherzo ma avete visto ho fatto lo scherzo a mia madre del computer rotto ho regalato l'airpods a mia sorella dunque ragazzi alla fine questo canale non è solo un canale di gaming ma è un canale come si dice totalmente casual nel senso che in questo canale ci saranno regali ci saranno scherzi ci saranno giochi ci saranno tante cose messe insieme ma non perché io voglio fare un canale allora bom prendo il primo video che faccio lo butto nel lo butto su youtube e via spero di fare il no perché se io so che se faccio un canale solo gaming io copio gli altri io non sono il primo che si se dovessi fare una challenge su forte naturalmente saranno uguali alle altre perché ormai i challenge se uno se ne vende un milione sono tutti uguali alla fine è sempre quella però io voglio fare un canale misto nel senso che la gente magari un giorno dice voglio vedermi un video di scherzo magari vede il mio video gli piace e io porto avanti come video quando ho fatto scherzo a mia madre ragazzi ha avuto un successo enorme e io vi ringrazio assolutamente di cuore come la mia prima bit che ho pubblicato sul mio canale anche quella ha spaccato di brutto e io vi ringrazio di cuore comunque a parte i scherzi ragazzi vi ringrazio tantissimo vi ho spiegato che questi giorni non ho pubblicato qualche video non ho pubblicato come solito ragazzi ma sempre per il fatto del lavoro poi c'è caldo ragazzi veramente potete vedere le luci microfono, cuffie, cosa accesa cioè alla fine ragazzi è stancante poi vieni a casa dal lavoro nel ristorante tutto sudato devi fare la doccia con il caldo vengo a casa sotto il sole cioè ragazzi alla fine ci muori secco non c'hai neanche la voglia di registrare questi giorni ragazzi sto cercando di mettermi avanti con il lavoro nel senso di registrare un po' di video e poi dopo cominciare a fare l'editing tutto quanto sistemato che usciranno il giorno giusto che deve uscire il video non usciranno più 3 video a settimana usciranno 2 video o anche 3 ma io spero 2 che riesco a fare dei video sistemati belli, carini dove riesco a fare delle belle cose perché ragazzi io vado sempre anche in live su Twitch vado sempre in live su Facebook cioè faccio tante cose messe insieme poi il mio canale Instagram cioè devo gestire un paio di cosette capito? questo qui della confritte di fuoco dove faccio video comunque spero di lasciarvi vi lascerò qui comunque ripeto qua o qua vi lascerò la foto o l'ho lasciato prima adesso non mi ricordo comunque ragazzi se questo video che vi ho spiegato perché non ho pubblicato così vi ringrazio comunque del supporto perché molti dei miei video vanno e vedo che vi piacciono e abbiamo raggiunto 40 iscritti e tanto comunque ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi attivate la campanellina e non perdetevi i prossimi video ragazzi perché ho preparato delle cose che nessun altro ha mai portato sul canale raga saluti da Giamba ci conto su di voi ci conto 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 è tutto ci conto ci però ci conto ci conto ci conto ci conto ci conto lo è